Ciao ragazzi, nuovamente in postazione per parlare di Fanatec, questa volta di ciò che non si vede, ovvero del software. Infatti, mentre sono andato a connettere la nuova corona per scaricare eventuali aggiornamenti, ho trovato che Fanatec ha rilasciato un nuovo driver per il programma di aggiornamento sul PC. Che cosa c'è di nuovo? Sostanzialmente poco, più che altro per i curiosi, gli smanettoni come me, c'è modo di andare a vedere soprattutto un dato che mi ha colpito e direttamente ti fa capire quant'è la forza che stai utilizzando sul servo base. Credo che questo sia per tutti i servo base Fanatec, perché se c'è per il loro prodotto entry lever sicuramente sarà un controllo o un monitor anche per quelli di categoria nettamente superiore. So che molti di voi, più che altro la quasi totalità, con il mio grosso stupore, da quando aggiorna il prodotto non lo aggiorna mai. Io vi invito a fargli gli aggiornamenti. Per quale motivo? Soprattutto adesso che Fanatec è diventata partner ufficiale di Gran Turismo, stranamente due giorni dopo è uscito proprio un aggiornamento per i prodotti Fanatec, le impostazioni, i parametri di simulazione, di gestione motore, di simulazione fisica col gioco sicuramente vengono aggiornati, integrati, potenziati. Se voi non aggiornate i prodotti Fanatec, e attenzione, perché a seconda di quelli che avete, non si fa tutto dal servo base, come ad esempio il freno a cella di carico, l'ha connesso direttamente, come avete visto nel primo video che feci di questo prodotto nell'unboxing. Se non lo sapete, lo trovate all'interno sempre del mio canale. Per il resto, la corona invece si aggiorna dal servo base sempre, connessa direttamente al PC. Quindi ragazzi, fateli questi aggiornamenti perché potreste per assurdo avere un Fanatec Podium ma non aggiornato alla versione attuale del gioco e che quindi potrebbe fornirvi un feedback di gioco non congruo, non reale rispetto a quello che realmente sta succedendo. Vi sembra strano ma è una cosa importantissima, quindi vi invito assolutamente a fare gli aggiornamenti dei vostri dispositivi. Fruttate questo video perché adesso passiamo sul PC, vi faccio vedere dove reperire il programma per PC. Va scaricato, una volta scaricato va connesso ovviamente il servo base tramite USB o il freno come vi dicevo nel mio caso direttamente sempre con il suo cavo USB al PC per fare l'aggiornamento. Selezionate qui ad esempio sul DD Pro tramite il pulsante l'apposita configurazione per la connessione al PC. Ad esempio qui la luce che indica la connessione al PC è rossa, alla Playstation è blu. Questa è la pagina Fanatec dove trovate il nuovo software rilasciato, la versione 4.51. Quindi effettuate lo scaricamento, troverete nella cartella dove andrete a scaricarlo un file zip che va estratto. Aprite poi la cartella, installate un X32 e un X64 in base al vostro sistema operativo. Una volta installato, connettete il cavo USB del servo base. Accendete il servo base in modalità PC, quindi ad esempio per questo DD Pro la luce corretta è quella rossa. Apriamo il Fanatec Control Panel. E questa qui è la schermata del programma che ci permette di andare a configurare i vari parametri e aggiornare i firmware di ogni singolo dispositivo. Queste al momento sono le mie configurazioni. Una delle novità è proprio questo numerino qui. Ovvero adesso ci dice direttamente in base alle nostre impostazioni a quale coppia il motore lavorerà. Quindi nel mio caso 7.4 Nm perché è un DD Pro col Boost Kit, quindi quello da 8 Nm. Altra modifica è stata qui nei menu a tendina che si aprono portandoci sopra a ogni singola barra di regolazione. Rimane aperta fino a che non spostiamo la freccia. La prima invece rimaneva aperta per pochi secondi. Per chi non sa che cosa vuol dire ogni singolo parametro, ovviamente era una cosa scomoda perché dovevi stare continuamente a rimettere la freccia sulla barra. Quindi grazie per aver messo questo menu a tendina fisso. Se non avete mai aggiornato i vostri dispositivi, la sezione giusta è questa qui, Firmware Update. Quindi qui voi troverete tutte le voci in rosso, questi sono tutti aggiornati. Quindi qui a fianco vi comparirà un pulsante per andare a fare l'upload di ogni singolo firmware. Quindi dovrete farlo uno per volta e a seconda del tipo di firmware che andate a installare potrebbe essere necessario anche riavviare il dispositivo. Per la pedaliera invece, come vi dicevo, da qui potete sì andare a configurarla, quindi gestire la corsa dei pedali eccetera eccetera, ma per aggiornarla a seconda dei pedali che avete, quindi ad esempio il mio freno a cella di carico, devo connetterlo direttamente da qui, come vedete nell'area firmware non me lo dà, non lo riconosce proprio perché è un dispositivo indipendente al quale serve un aggiornamento diretto. Il tuning menu è la sezione dedicata proprio alla configurazione del motore. Qui abbiamo vari setup che possiamo salvare, a me ne basta uno, utilizzo questo per tutte le auto. La nuova funzione che ho con questa nuova corona è la vibrazione della corona, prima invece con la corona originale non ce l'avevo. Funziona anche in abbinato con la pedaliera, al momento ce l'ho spento, attivandolo quando noi andiamo a schiacciare il pedale del freno, arrivati ad una certa percentuale di pressione, possiamo attivare proprio la vibrazione del volante che ci avvisa che stiamo a tot percentuale del freno, soprattutto per chi magari non utilizza l'ABS, potrebbe essere un dispositivo comodo. Per il momento lo tengo spento, voglio adattarmi con questa corona perché la differenza con la vecchia originale GT è veramente abissale. Con questa sembra di guidare un'auto vera, più che altro il diametro ovviamente mi dà tempi di reazione diversi rispetto a quella di prima che era molto molto piccola. Perché? Direte poi regolare l'angolo di sterzo. Verissimo, noi da qui possiamo andare a regolare l'angolo di sterzo, però vi dico di non farlo assolutamente, soprattutto su giochi come Gran Turismo, perché le auto sono completamente diverse, passiamo da un'auto da 100 cavalli a una superformula, si guidano in maniera completamente diversa e di default hanno angoli di sterzo completamente diversi, quindi andare a dare un determinato angolo, 1890 gradi, lo stiamo dando fisso per tutte le auto. Capite che non può funzionare su una Civic del 98 rispetto a una Mazda 787B, sono due macchine completamente diverse che si guidano in maniera diversa, hanno degli pneumatici, delle sospensioni, qualsiasi pezzo diverso e non si guidano uguali, quindi andando ad impostare un angolo preciso guiderete malissimo. Il mio consiglio, ma quasi ve lo impongo, tenetelo con giochi come Gran Turismo dove le auto sono completamente diverse, tenetelo su auto perché andrà a prendere l'angolo di sterzo impostato per quell'auto. Capite che essendo quattro mesi che utilizzo una corona piccola, adesso passare una grande comunque non è cambiato poco. Diciamo che ci sto lavorando. Il controllo è nettamente migliore perché prima se con un grado andavo ad effettuare uno spostamento di 30 centimetri, adesso con un grado effettuano spostamento di 10 centimetri, non so se mi spiego. Quindi come precisione di guida così è nettamente superiore, riusciamo a mettere l'auto dove vogliamo. Più è piccolo e più è difficile perché a un nostro spostamento corrisponde uno spostamento più grande, più ingrandiamo la corona e più lo spostamento che facciamo ruotando allo stesso grado è più piccolo. Spero di avervi fatto capire, ovviamente non significa che dobbiamo mettere il volante di un autobus perché altrimenti ha voglia girare, dobbiamo mettere il pomello come muletti. Bene ragazzi, per una volta aggiornati tutti i firmware per disconnettere il dispositivo, non è possibile farlo dal PC perché non lo riconosce tipo come un mouse. Quindi che cosa dobbiamo fare? Spegnere il servo base assolutamente prima di disconnettere l'USB. Andate quindi a prendere un PC, anche se avete Windows XP non cambia nulla, va fatto solo un aggiornamento del firmware, quindi basta un comunissimo computer. Mi raccomando, il software è importantissimo, non sottovalutatelo, non basta un hardware per essere super competitivi. Anche se avete il miglior prodotto, il top di gamma, se non è ben sincronizzato e abbinato a livello di dialogo digitale col gioco, non funzionerà bene e voi magari neanche ve ne accorgete. Quindi ragazzi, verificate, stateci dietro. So che magari è una noia, soprattutto per chi è molto bravo alla guida, ma è pessimo di informatica, capisco che possa essere una rogna. Ma il mio consiglio è controllate costantemente, datevi una scadenza e controllate. Se avete degli aggiornamenti per i vostri dispositivi, anche se non sono fan alla tecnica qualunque, e se siano a livello di simulazione, è importante stare sempre al passo dei tempi. Spero che questo video vi sia d'aiuto, vi ringrazio di avermi seguito. Lasciate un like, condividete questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Grazie.